Quarta del pomeriggio, partiti! Non brillante Indian Paradise, che scivola in coda. Dall'interno è veloce Rui Boy insieme a Easy Destination. Poi a seguire Ticket to Heaven, che precede Indian Paradise, che recupera per linea interna e lasciando in coda Orna Benamy, che precede. Sganciamoci. Così sei concorrenti sulla piegata, con Rui Boy ad impostare l'andatura. Quella che ritiene più opportuna Simone Mereo in sella al Sauron Rui Boy. In seconda posizione all'esterno c'è Easy Destination, che precede all'interno Indian Paradise, con il paraombre. All'esterno invece c'è la mossa anche di Ticket to Heaven, che prova ad anticipare la risalita. Sganciamoci, lasciando in coda, ma a contatto Orna Benamy. Schieramento e posizioni che non cambiano. Al completamento anche della piegata di destra, a 700 metri dalla conclusione, Rui Boy sempre saldo leader su Easy Destination, promuore le acque Ticket to Heaven. Orna Benamy insieme a Indian Paradise, che aspettano la retta. Quando il gruppo si ricompatta, sono un po' chiusi i più attesi. Indian Paradise e Orna Benamy che rimangono in coda. Allora Rui Boy, che prova a giocare la carta dell'anticipo su Indian Paradise, che prova a svincolarsi dagli avversari. Orna Benamy che segue questi per linea interna. Rui Boy che accelera, c'è lo spazio per Indian Paradise. Non si fa pregare allora a Luca Magnezzi per prendere quello spazio lì. Orna Benamy che anche progredisce per linea interna. Gli altri che sono più arretrati. Rui Boy è pressato da Indian Paradise, che gioca in anticipo su Orna Benamy. Lo scatto di Indian Paradise su Rui Boy. Poi Orna Benamy all'esterno. Indian Paradise è ancora in mano. Luca, deve muorere le mani a questo punto? Perché all'esterno c'è anche Orna Benamy che scatta. Indian Paradise sul palo. Su Orna Benamy e Rui Boy vicini. Molto confidente. Luca Magnezzi in sella a Indian Paradise. Forse un po' per l'ultimo brutto ricordo, visto che Indian Paradise l'ultima volta aveva scartato. E qui temporeggia più possibile. Prende un'incollatura su Rui Boy che è rimontato poi all'esterno da Orna Benamy. Andiamo a rivedere il pre-regia. Eccolo qui. In retta d'arrivo Rui Boy che sarà con lo steccato. In Indian Paradise vedete. Luca Magnezzi aspetta a muovere la risalita all'esterno di Orna Benamy, a cui vince facile. Indian Paradise e Orna Benamy, a mio avviso, sul palo. Hanno ragione dei Rui Boy per la seconda moneta. Monta molto confidenziale, ma quanto mai precisa, quella di Luca Magnezzi per la razza dell'olmo e Riccardo Minichetti, che vanno a siglare così, nel più facile dei modi, questa vendere. Vince Indian Paradise, il numero uno, al secondo, a mio avviso, sul palo. Orna Benamy, il numero tre, batte il 4 di Rui Boy. 2-3-4 allora. Indian Paradise, il numero due, che vince. 1-74. In chiusura, la quota al totalizzatore. È tutto.